Il 2 giugno 1946 le italiane e gli italiani con più di vent'anni, quindi maggiorenni per la legge dell'epoca, si recarono in massa a votare in quelle elezioni che rimasero e rimangono ancora oggi una sorta di unicum nella storia del nostro paese, perché come sappiamo si votò in quella domenica da un lato per eleggere i rappresentanti dell'assemblea costituente, dall'altro con l'altra scheda per scegliere la forma istituzionale dello Stato, monarchia o repubblica? Una scelta capitale. Gli italiani e le italiane avevano ripreso a votare per le elezioni amministrative nei mesi precedenti, fra la fine del 1945 e i primi mesi del 1946, ma per la prima volta si ritrovavano a fare nella storia del nostro paese una scelta politica e istituzionale fondamentale. Per quanto riguarda la scelta della forma di Stato, solo con i plebisciti del 1859-1860, una parte degli italiani, quelli che avevano votato, avevano potuto dare il loro consenso all'unificazione del paese all'interno della monarchia retta da Vittorio Emanuele II, ma nessun paragone era possibile fra queste due scelte istituzionali, se non altro perché non era mai stata posta per gli italiani l'opzione repubblicana come libera scelta da adottare con la scheda. Sappiamo che l'Italia era divisa, sappiamo che l'Italia settentrionale e l'Italia centrale, fino alle Marche, all'Umbria e alla Toscana, optarono per la repubblica, mentre il resto dell'Italia centrale e meridionale optò per la monarchia, poi con una significativa differenziazione, per cui gli studi ci hanno detto che tante donne del sud hanno votato per la repubblica, così come, a differenza di quello che avveniva nel mondo contadino dell'Italia meridionale, tanti contadini dell'Italia del nord-est votarono per la repubblica, questo determinò quei due milioni di voti di differenza a favore dell'esito repubblicano, che determinò la svolta fondamentale nella forma di stato del nostro paese. Mai poi si era votato nel nostro paese per una costituzione, cioè mai i cittadini avevano potuto assumere il potere costituente. Se ne era discusso a più riprese, soprattutto nei momenti di crisi della storia del nostro paese, la crisi di fine secolo, di fine ottocento, la stagione critica nel 1919 del primo dopoguerra. Ma in realtà ora i cittadini per la prima volta avevano nelle loro mani la possibilità di scegliere attraverso i rappresentanti di quei partiti che erano profondamente anch'essi rinnovati rispetto alla presenza dei partiti nel primo dopoguerra, di scegliere i rappresentanti che avrebbero avuto a nome del popolo, a nome di cittadini elettori, donne e uomini, donne e uomini eletti, donne e uomini elettori, il potere di scrivere una nuova carta fondamentale, questa volta non più concessa ma democraticamente definita, moderna, attenta non solo ai diritti civili e ai diritti politici ma anche quei diritti sociali che erano così divenuti centrali nel corso della storia del Novecento. Dunque una data fondamentale. Non si può dire, e il discorso su questo sarebbe lungo, che questa data sia divenuta una festa altamente simbolica o altamente partecipata nella vita degli italiani e degli anni successivi al 1946, anche se subito del 1947, il 2 giugno, venne proclamata festa nazionale. Forse la necessità di non enfatizzare troppo una data che aveva segnato comunque una divisione e quindi in qualche modo una lacerazione che fu contenuta grazie al senso di responsabilità degli italiani e dei partiti politici, fra coloro che avevano esercitato l'opzione monarchica e coloro che avevano esercitato l'opzione repubblicana, suggerì di non enfatizzare troppo quella data. Non dimentichiamo anche che in anni a noi più vicini, fra il 1977 e il 2000, ragioni di opportunità suggerirono la cancellazione del 2 giugno come festa nazionale, lo slittamento delle celebrazioni alla prima domenica di giugno, fino a che, per una volontà anche molto precisa del Presidente Ciampi, nel 2000, una stagione nella quale uno degli obiettivi molto forti del Presidente della Repubblica fu quello di individuare forme e modi anche simbolici di ricompattamento della identità nazionale, della comunità nazionale, spinse a restituire il 2 giugno come festa nazionale di tutti gli italiani. E dunque sia la storia del 2 giugno sia la storia della festa del 2 giugno sono tali da sottolineare la necessità che noi riflettiamo su questa data e sulla sua importanza. Una data forse ancor più, e non altre, nel nostro calendario civile, in qualche modo unica, che ricorda un evento unico nella storia del nostro Paese e nella storia della nostra democrazia. Sulla Topolino a Baranto si va che un incanto nel 46, se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ho. E il Presidente, la bionda, mi sembra una fionda, e a bozza un sorriso.